Avremmo voluto festeggiare come tutti gli altri anni il nostro Natale, che è la nostra festa tradizionale, ma quest'anno non sarà possibile per evidenti ragioni. Ciononostante, noi vogliamo comunque guardare al futuro con fiducia e riconoscere e premiare tutti i nostri atleti, i ragazzi che quest'anno si sono comunque distinti, dimostrando che anche con condizioni assolutamente difficili e precarie è possibile ottenere dei grandi risultati. I nostri campioni, uno ad uno, Steve Abe, Lorenzo Tonna, Alessandro Battilana, David Palladini, Anita Bertolini, Elisa Maria Di Lazzaro, Desola Occhi, Francesca Orsatti, Abiba Faisal, Giulia Maserati, Jennifer Ezeoa, Ayomide Folorunso, Edoardo Scotti, Sara Fantini, Tobia Bocchi, Norberto Fontana, Riccardo Orsoni, Mirta Pace e Tommaso Saccardi. Come Cusparma abbiamo deciso di investire le nostre risorse, le nostre possibilità con una donazione. Una donazione che riteniamo importante e fondamentale, soprattutto in questo periodo, all'ospedale dei bambini di Parma. E i nostri campioni, quelli che abbiamo appena nominato, saranno i nostri migliori testimonial per questa donazione. Quindi un grazie a loro, un grazie a voi e come sempre, forza Cusparma, guardiamo avanti con grande fiducia. Quest'anno, grazie a Cusparma, noi doniamo per la nostra città. E tu cosa aspetti?